Sai qual è il significato della derivata? Io sono Simone, siamo su The Rocket e andiamo subito a vederlo. Quindi abbiamo la nostra funzione f di x e il nostro punto x con 0 e la sua immagine f di x con 0. Innanzitutto, la derivata prima della nostra funzione valutata nel punto x con 0 ha questa definizione, è definita in questo modo, niente di nuovo. Quindi andiamo a tracciare la retta y uguale a mx più q, molto generica. In particolare questa retta deve passare per questo punto rosso, x con 0 e f di x con 0 ed essere quindi tangente alla nostra funzione f di x nel punto rosso. E in questo modo. Il significato della derivata prima è che il coefficiente angolare di questa retta, quindi m, è proprio uguale alla derivata prima della nostra funzione valutata nel punto x con 0. Quindi calcolare la derivata in un punto significa calcolare la pendenza della nostra funzione in quell'esatto punto.